con tre presidenti di questo profilo si scontrassero perché è evidente che c'è stato un cortocircuito perché io sono testimone oculare del fatto che Conte si fosse messo d'accordo con Letta e con Salvini e voleva anche la Meloni poi c'era un piacere o non piacere la Belloni testimone oculare leggendo, ho visto le cose e in quei giorni avevo il telefono e ho parlato al telefono e mi è stato detto da determinate persone che l'accordo c'era tra Letta, Conte, Salvini e Meloni per eleggere la Belloni poi è stato obiettivamente cancellato da Letta che se l'è fatta sotto per quello io oggi a Conte che dice io mi fido di Letta io ho risposto io di Letta non mi fido da Di Maio che si è sentito con Guerini e con quella parte che voleva bocciare la Belloni perché hanno provato a riproseguire comunque sulla strada di installazione vediamo Salvini e Conte sulla Belloni aspetta aspetta prego con Tante